La terza giornata della Serie A si gioca tra sabato 9, e domenica 10 settembre. La prima partita sarà Juventus Chievo, che si giocherà sabato alle 18 all'Allianz Stadium di Torino. Sabato sera la Roma avrebbe dovuto giocare in trasferta contro la Sampdoria, ma la partita è stata rimandata a causa del cattivo tempo previsto. Domenica le partite cominceranno alle 12.30, con Interspa, e andranno avanti nel pomeriggio con Lazio-Milan, la partita più importante della giornata. Su entrambe le squadre ci sono molte aspettative per questa stagione, e la partita si giocherà alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma. Il posticipo serale sarà tra Bologna e Napoli. Qui trovate tutte le probabili formazioni della terza giornata di Serie A. I dati sono stati messi insieme raccogliendo le informazioni date da Gazzetta.it e Schisport, tra i principali siti sportivi che si occupano, tra le altre cose, delle ultime notizie relative alle squadre di calcio di Serie A.